L'idea di aprire un negozio di articoli per feste è venuta circa 15 anni fa. Avevo un posto fisso, ma non ero soddisfatto. Allora ho aperto Ballon Party e non potevo immaginare quanto importante e gratificante sarebbe stato per noi. Ballon Party oggi conta 12 dipendenti. Un negozio al dettaglio, uno all'ingrosso e un e-commerce che serve clienti e negozi in tutta Italia. Questo lavoro è meraviglioso. È un lavoro che si gratifica giorno dopo giorno. I punti di forza di Ballon Party sono senza dubbio l'ampiezza e la profondità della nostra offerta. Le novità che presentiamo ogni giorno e la velocità con cui evaliamo gli occhi. Per noi di Ballon Party il cliente è un partner con cui crescere insieme.